Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Quenti Channel e oggi sono qui con questo nuovissimo video in cui andremo a parlare di un nuovo easter egg o glitch che è stato scoperto su Red Dead Redemption 2 da un utente youtube e questo potrebbe rivelarsi come l'easter egg più importante del gioco e ora vi spiegherò anche il perché sinceramente oggi vigilia di natale non mi andava di fare un video abbastanza elaborato quindi ho detto vabbè rilassiamoci un attimo prendiamoci questo giorno questi giorni di relax tra virgolette e portiamo anche un video non molto pesante su youtube e quindi ho deciso di parlarvi di questo di questi easter egg anche perché ragazzi sono solito portare questi video di easter egg misteri su Red Dead Redemption nel mio canale a proposito state comprando i regali state regalando ai vostri amici Red Dead Redemption 2 ragazzi state facendo fare i big money a Rockstar Games pensate solamente ragazzi che nei primi tre giorni di vendita Rockstar Games ha incansato 725 milioni di dollari veramente un sacco e pensate che Red Dead Redemption 2 ha venduto tre volte di più rispetto al primo capitolo che diciamo non se lo inculavano in tantissimi rispetto ovviamente ad esso comunque a parte questo parliamo di questo easter eggs innanzitutto per quanto riguarda questo glitch o easter egg possiamo definirlo così contiene degli spoiler o meglio aspettate non allarmatevi il video che mostra questi easter egg contiene degli spoiler quindi io non ve lo farò vedere in questo video perché magari sicuramente tra di voi c'è qualcuno che ancora non ha giocato la storia o comunque sia sta per finirla quindi se volete vedere proprio questo video ve lo lascerò nella descrizione di questo video oppure nel primo commento qui sotto ma vi spiegherò in sintesi cosa è successo cosa scoperto questo giocatore questo youtuber in pratica ragazzi se vi recate ad armadillo vecchia cittadina presente nel primo capitolo di Red Dead Redemption e presente anche nel secondo capitolo è possibile ascoltare la voce di Jack Marston da adulto è proprio così ragazzi per chi ha giocato il primo sa benissimo com'è la voce di Jack Marston nel secondo capitolo e conosce benissimo Jack Marston adulto che nei ragazzi in Red Dead Redemption 2 conosciamo soltanto un piccolo Jack a causa di questa scoperta tantissimi giocatori appassionati della community stanno iniziando a speculare diverse ipotesi su diverse teorie che possano portare o un remake o una remastered di Red Dead Redemption cioè del primo capitolo questo sarebbe ragazzi qualcosa di fantastico perché attraverso un remake chi non ha avuto la possibilità di avere una playstation 3 di giocare il primo potrà farlo rigiocandolo su ps4 o comunque sia su xbox one anche se su xbox one è possibile giocarlo comunque attraverso questo remake potrebbe diciamo dare la possibilità a le nuove generazioni possiamo dire così coloro che hanno scoperto questo mega gioco soltanto col secondo capitolo di capire meglio la storia le vicende dopo gli avvenimenti che abbiamo visto alla banda nel secondo capitolo ovviamente non sto qui a spoilerarvi altri invece sostengono che rockstar games abbia voluto inserire questo glitch o easter eggs non si capisce bene ragazzi ma parliamo di easter egg meglio parlare di easter egg perché molto probabilmente potrebbe annunciare un dlc aggiuntivo magari che potrebbe portare diciamo alle vicende di jack però sinceramente ragazzi questa cosa la vedo un po strana come teoria perché o ci sarà appunto un red dead redemption 3 che magari possa vedere come protagonista jack marston perché di jack marston dopo il primo capitolo non sappiamo più nulla oppure ragazzi potrebbe semplicemente essere un semplice easter egg che rockstar games ha voluto inserire per fare onore a jack anche se comunque questa cosa non avrebbe molto senso ragazzi sinceramente perché inserire la voce di jack così a caso tra l'altro jack adulto quindi sicuramente c'è qualcosa sotto e tutti stanno cercando di ipotizzare diverse teorie per cercare appunto di trovare la pista più plausibile voi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e tra l'altro se avete finito la storia andatevi a vedere quel video per ascoltare proprio questo mistero diciamo questo easter egg non mistero e quindi fatemelo sapere voi io sinceramente preferirei una remastered del primo capitolo per ora mi accontento di questo sinceramente non voglio già pensare al red dead redemption 3 mi sto rifacendo tutta la storia perché avevo saltato delle missioni secondarie devo completarla al 100% quindi sto dedicando più tempo ad essere red dead redemption 2 ed è molto ma molto presto parlare di quello 3 se dovesse uscire un terzo capitolo sicuramente uscirà per next gen quindi playstation 5 e poi ragazzi lo vedremo chissà tra 8 o 9 anni il terzo capitolo prima di chiudere e darvi gli auguri volevo dirvi anche un'altra cosa se mi seguite su instagram tempo fa vi dissi che la community proprio accanita di red dead redemption ha scovato un uomo su facebook che si chiamava colmo odriscol un povero uomo che abita in irlanda siccome hanno visto che questo povero uomo si chiama colmo odriscol hanno iniziato ad insultarlo su facebook e sto tizio qua che non ne capisce un cazzo di red dead redemption ha ricevuto tutti questi insulti da questi ragazzi da questi videogiocatori accaniti soltanto perché si chiamava colmo odriscol cioè pensate ragazzi dove arriva la mente umana oltre a questo recentemente invece c'è stato un litigio tra un ragazzo ed una ragazza soltanto perché in una situazione di intimità il ragazzo ha chiamato la propria moglie o comunque sia fidanzata non ricordo Sadie Adler quindi ragazzi la famosa Sadie di red dead redemption 2 che tutti noi amiamo follemente e quindi la ragazza pensava fosse l'amante e quindi diciamo che è andato un po' tutto a puttana cioè vi rendete conto ragazzi red dead redemption 2 può anche rovinare la vita di coppia impressionante e niente ragazzi spero che questo video un po' informativo vi sia piaciuto fatemi sapere la vostra nei commenti tra l'altro farò altri video io spero di portarne un altro prima della fine dell'anno vi voglio portare il video facendo il confronto tra le città di red dead redemption 2 con la realtà vedere un po' se esistono anche nella realtà a cosa sono ispirate queste città e niente ragazzi io vi auguro una buona vigilia di natale un buon natale e non so sicuramente farò un altro video prima della fine dell'anno e eventualmente un felice anno nuovo noi ci vediamo alla prossima tra l'altro voglio anche salutare tutti i membri della community red dead redemption 2 Italia e augurare buone feste anche a loro noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti 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 ciao a tutti